oh la mia moto dov'è ha detto che arriva a piedi e la mia moto dov'è dico no arrivo a piedi ha detto allora è riuscito a riaccenderla non si. sarà stancato solo a riacendere oiaiei 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 si è la scarpa con la sella lunga ha fatto un milione di visite e ma non vale scendere e andar via bravo l'ha copiata l'ha copiata ma qua l'ha o eh Michi quando arrivi su tira un po' il manubrio perché ormai indietro ce l'hai già su se tu tiri il manubrio ti tiri avanti e riprendi il peso giusto e dopo riparti se invece tu resti indietro il momento che fai per il davanti ti si alza quel pelo e ti fermi prova a copiarlo e fermati quell'attimo è come se la copiassi appena arrivi su ti fermi e tiri il manubrio e ti blocchi e poi riparti via piano guarda Luigi come la fa fatta saltare troppo se salta troppo il dietro quando atterri non la riprendi più copiala Vito 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 chiudi lì la benzina figa non si ferma più non si ferma più tanto quando gli si spegne non va più hai visto che sei rimasto ancora indietro la moto va per i cazzi suoi tira il manubrio oggi ti sei sfogato eh oggi ti sei sfogato no no è la moto più facile della mia oh guarda qui no 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 hai capito magro� hai capito ma niente che questa se quando dai tu hai? no no dico no professional burro no no bam hai capito no 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 ti perdono un sacco di cosas si bravo oh no ho notato che ti perdono un sacco di cose e ti aiuta? si ti aiuta ho fatto passaggi che con la mia non facevo ma che cazzo fare? che cazzo fare a fare quei recuperi lì? era fermo ho fatto il serpente e figaro i bicchi porco diavolo impressionante cioè era fermo fermo si è mosso tutto è andato fuori certo che ho capito ma io lo so lo so per me si è scaldato fuori no stamattina stamattina non è in luna si è scaldato fuori si è scaldato fuori non mi lascio a perdere queste cose Zambi andiamo a fare la prova di gandonelle a mo eh ma devi modificarla quella zona non la spera ah non devi fare è vero vieni e l'ho tirato tutto ma si è saltato tutto e allora lascia andare la moto che è meglio perchè ascolta se fai così ti si imbizzarriva ancora un po' cadevi giù tu di sopra lasciala lasciala zona del Garganella zona del Gar... eh ho capito ma i suoi non lo so eh la moto si ma i suoi non lo so andiamo Lele che l'hai detto dello scarico ce l'abbiamo eh aiuto come no e ridà con una gamba su e quell'altra sotto mezzo chilometro andiamo a fare la zona del marco bravo no forse no ce l'ho non sai andiamo vai a mettere giù la zona nel tuo posto che è quello più la fai te la zona no la metti giù te perchè quella è la tua zona e metti un'altra e appunto andiamo andiamo a fare la tua dai forza andiamo a fare la zona del Garganella